ciao a tutti oggi dopo più di un anno di lezioni online finalmente torno in università e questo è possibile perché hanno messo a disposizione delle aule studio che possiamo prenotare e noi studenti possiamo andare lì a studiare con tranquillità e questa secondo me è una cosa molto importante perché non tutti hanno la possibilità di studiare in casa con serenità senza distrazioni e quindi avere un posto tranquillo dove poter studiare è importantissimo adesso l'idea per questo video e di portarli insieme a me e documentare questo tipo di esperienza per usufruire di questo servizio bisogna fare una prenotazione e per farlo è molto semplice basta collegarsi o sul sito dell'università o tramite un app metti le credenziali dell'università poi scegli edificio aula e ti mostrerà tutte le opzioni disponibili nei vari giorni scegli quella che ti pare e poi hai fatto a fine prenotazione di hanno un codice qr che penso bisogna mostrare all'ingresso per entrare e niente è molto semplice ci sono stato pochi minuti ieri sera prenotarmi e adesso sembrerà strano ma devo andare a fare lo zaino per l'università e non preparo lo zaino per l'università da più di un anno ed è stranissimo vado che sono in ritardo comunque fa veramente strano vedere l'università che di solito è un posto abbastanza sociale pieno di gente vederla completamente vuota è strano ok ci sono pochissimi passanti perché questo è anche un quartiere sono venuto un po presto rispetto all'orario della prenotazione che è le 9 30 perché volevo fare un po un giro e sto un attimo risvegliando un po di ricordi di quando si poteva andare in presenza e adesso sto preparando l'ultimo esame che in realtà l'esame orale di statistica 2 mi mancano due giorni e spero di poterlo preparare per bene ricordare tutte le dimostrazioni tutti i teoremi perché vorrei farlo bene vorrei concludere al meglio la sessione come edificio ho scelto l'u9 che è un edificio un po particolare perché il mio primo edificio in cui sono andato a fare lezione e dai adesso vado questa è la postazione non c'è nessuno per adesso qua ci sono le prese qua c'ho la cartella e qua c'è c'è l'aula piccolina però ci sta allora dopo un'ora e mezza di ripasso di teoremi e dimostrazioni di statistica sono fuori perché sono stanco volevo un attimo riposare e adesso sono in questa piazza qua dove c'è anche la deutsche bank praticamente di fronte l'edificio u9 dove ho appunto la prenotazione allora ho scoperto un po di informazioni su queste aule studio ve le do così al volo intanto bisogna segnare l'entrata e l'uscita dall'aula così poi appunto loro sanno che fine è fatto e si fa semplicemente passando il badge su un apposito dispositivo poi dentro l'aula se ci sono altre persone bisogna sempre tenere la mascherina io non l'ho tenuta perché non c'era nessun altro oltre a me quindi non aveva senso tenerla e poi bisogna anche comunicare dove si è seduti poi alla fine così poi la signora delle pulizie pulisce disinfetta e sanifica giustamente anche non c'era il riscaldamento e questo è un po' nì perché sono stato un po al freddo però devo dire che avere la possibilità delle aule studio interessante specialmente per chi ha problemi in casa e non riesce a studiare a concentrarsi bene e quindi avere un posto dove c'è silenzio dove tutti studiano è importante è ottimo perché riesce a essere concentrato infatti io ho studiato abbastanza bene comunque detto questo torno dentro perché devo riprendere a fare statistica ho finito finalmente di studiare per questa mattinata sono stanco però anche soddisfatto perché ho lavorato bene sono anche contento di essere tornato in università perché è da più di un anno che non venivo è un po brutto vederla vuota perché di solito è sempre piena di ragazzi si sta in compagnia comunque ho dei bei ricordi dell'università e il fatto di vederla vuota senza nessuno è un po strano comunque trovo anche molto interessante la possibilità di avere aule studio perché magari io non ne ho bisogno perché avendo da solo sono tranquillo però per chi ha difficoltà di concentrarsi a casa o comunque non riesce è comodo avere queste aule studio e secondo me è un giusto diritto che noi studenti dobbiamo avere e sono anche contento di avervi portato insieme a me perché è una cosa interessante da documentare almeno secondo me e niente detto questo me ne vado a casa a mangiare che c'è un po di fame vi ringrazio della visione se siete noi del canale potete anche considerare l'iscrizione per evitare di perdervi nuovi contenuti utili e interessanti ci vediamo al prossimo video